Buona serata, benvenuti a questo spazio elettorale a pagamento in vista delle prossime elezioni regionali che saranno il 20 e il 21 settembre. L'invito chiaramente è quello di andare a votare. In questo spazio conosciamo uno dei candidati al Consiglio regionale, Andrea Biancani. Benvenuto. Grazie a voi e buonasera a tutti. In rappresentanza del Partito Democratico a supporto di Mangialardi, che è il nostro candidato presidente. Allora, io partirei dal raccontare questa sua locandina, questa sua immagine, manifesto della sua campagna elettorale. Partiamo da Continuiamo a pedalare insieme. Sì, io ho cercato di trovare un manifesto che potesse rappresentarmi al meglio per quello che sono. Innanzitutto, continuiamo a pedalare insieme. Ovviamente, quando parliamo di pedalare, vuol dire continuiamo a lavorare insieme. Perché comunque, lavorare comunque richiede spesso anche fatica. Pedalare comunque è faticoso, perché un conto è fare 100 metri, un conto è pedalare per pedalare. E quindi, continuiamo a pedalare insieme, cioè continuiamo a lavorare insieme. Mi è piaciuto molto aggiungere la parola insieme, perché ovviamente, io penso, perché chi fa un'attività politica e amministrativa, sia importante farlo insieme alle persone, insieme ai cittadini, insieme agli altri, cioè avere la capacità di ascoltare, di raccogliere quelle che sono le esigenze del territorio e poi cercare di dare delle risposte e di dare concretezza a quelle che sono le proposte che vengono fatte. E poi, Andrei, sulla scritta che c'è qui a destra, Biancani in Regione fa per te? Sì, anche questo volevo dare appunto la sensazione del fare. Io mi conosco, tutte le persone che mi conoscono, mi conoscono come una persona che fa, cioè una persona operativa, una persona che comunque non si tira mai indietro e cerca di poter risolvere tutte quelle appunto che sono le esigenze che mi vengono sottoposte. E quindi ho voluto dare in questo manifesto forza al fare e renderlo molto visibile, ovviamente per te, cioè per te quando oper a favore dei cittadini e di tutti quelli appunto le persone che vorranno incontrarmi e anche sottopormi le problematiche. E poi vediamo che ha scelto di farsi vedere in bicicletta, perché la bicicletta, il cicloturismo sono tematiche che lei ha portato avanti in questi cinque anni. Diciamo che questa immagine dà una sensazione comunque di essere comunque disponibile, perché andare in bicicletta rispetto a qualsiasi altro mezzo ti consente di poterti fermare con le persone. Un conto è andare in giro in macchina, un conto è andare in giro in bicicletta. Mentre vai in bicicletta ovviamente vai in maniera lenta, quindi hai la possibilità di salutare le persone, di fermarti, di farci due parole. E quindi, e soprattutto è anche un mezzo sostenibile. Io ho puntato molto in questi anni sulla sostenibilità e farmi vedere in bicicletta dà comunque una sensazione, un'immagine di merito di una persona disponibile, ma che è comunque una persona che ha bene in mente quelli che sono i temi legati alla sostenibilità. L'altro aspetto è lo zaino, che magari viene poco percepito. Lo zaino l'ho voluto mettere perché dà comunque la sensazione dell'essere operativo, del lavorare. Oggi ormai lo zaino ha sostituito la borsa, la 24 ore. Quasi tutte le persone, anche di qualsiasi livello sociale sono, utilizzano lo zaino. Perché lo zaino è ovviamente comodo, dà la sensazione di movimento. E quindi questa cosa mi piaceva molto e poi io comunque lo utilizzo tutti i giorni. Perché ricordo che in questi cinque anni io non sono praticamente mai andato in Ancona in macchina. Ho sempre utilizzato il mezzo pubblico, cioè ho sempre utilizzato il treno. Una volta che arrivavo in stazione utilizzavo l'autus per raggiungere direttamente il posto di lavoro e quindi non ho solamente lanciato un messaggio e poi mi sono comportato in un'altra maniera, ma il messaggio è proprio legato a come sono io. E quindi in questi cinque anni, anche per andare a lavorare, per andare in consiglio regionale, ho sempre utilizzato la bicicletta, spesso per andare in stazione, a volte anche, devo dire, anche il motorino quando avevo fretta, però comunque ho utilizzato il treno e poi ho utilizzato l'autus per raggiungere il posto di lavoro. Quindi ecosostenibile e ciclabili e ciclovie. Facciamo un po', mettiamo insieme queste tre parole. Sì, questo è veramente un progetto di eccellenza che come Regione Marche abbiamo portato avanti, cioè il progetto delle ciclovie. Noi abbiamo progettato una vera e propria rete di piste ciclabili in tutto il territorio regionale, dove la ciclovia principale si chiama ciclovia adriatica, che sarà una ciclabile che attraverserà tutta la nostra Regione Marche lungo la costa. Quindi a fronte mare. Abbiamo pensato che però questa ciclovia, che sarà una ciclovia di interesse nazionale, doveva essere accompagnata da un altro tipo di ciclovie. Cioè una ciclovia che consentiva di collegare la costa all'entroterra o viceversa all'entroterra con la costa. E quindi abbiamo pensato delle ciclovie vallive, cioè lungo le valli, che partono dalla ciclovia adriatica per salire lungo la costa e quindi poter collegare anche le aree interne, le aree non della costa, del nostro territorio. Complessivamente, come Regione Marche, abbiamo investito, abbiamo messo a bilancio oltre 50 milioni di euro, investimenti veramente molto importanti. Gran parte di queste ciclovie lungo le valli abbiamo già provato i progetti, stiamo procedendo con le procedure esecutive, adesso si faranno i progetti esecutivi e nei prossimi 5 anni si verranno sicuramente i cantieri. Nel nostro territorio, mi ricordo, la ciclovia adriatica, oltre alla ciclovia adriatica, quindi la ciclovia che collegherà la zona di Gabice con la zona che si collegherà direttamente con Senigallia, parte di questi pezzi sono già partiti, di tratti di piste ciclabili, oltre invece tra le ciclovie vallive, la ciclovia lungo il Foglia. Come Regione abbiamo investito 5 milioni e mezzo di euro, il primo tratto arriverà da Pesero, collegherà Cagallo e Casinina direttamente con il mare, quindi con la città di Pesero, e questo è un investimento molto importante perché non è solamente rivolto ai turisti, ma sarà rivolto anche ai cittadini che vivono lungo queste vallate, che troveranno un'infrastruttura che sarà utile anche per migliorare la propria qualità della vita, perché potranno queste persone muoversi o in bicicletta, ma potranno anche fare una passeggiata, penso le famiglie, potranno utilizzarle anche per fare una passeggiata. L'altra ciclovia della nostra provincia è lungo la vallata del Foglia e l'altra è lungo la vallata del Cesano. Insieme, oltre alle ciclovie, abbiamo finanziato il bike park sia sul Monte Feltro sia sulle Cesane e queste due saranno anche due infrastrutture molto importanti perché consentiranno, saranno soprattutto, un volano dal punto di vista turistico delle persone che amano viaggiare in bicicletta. Quindi questi due progetti dovranno essere comunque realizzati nei prossimi 5 anni? Saranno realizzati nei prossimi 5 anni perché i finanziamenti avranno dei tempi per poter essere spesi, cioè i soldi che abbiamo non li possiamo ottenere in tempo indefinito, vanno spesi. Il nostro obiettivo è iniziare con i cantieri. Entro il 2021 parecchie di queste cose dovranno iniziare e quindi dovranno, i cittadini vedranno già le prime risposte. È stata una scelta strategica che come ragione abbiamo voluto dare, cioè di creare un'infrastruttura legata alla sostenibilità. Andiamo adesso a parlare delle leggi per l'ambiente. Sì, io in questi anni sono stato Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Governo del Territorio e devo dire che la legge che mi rende più orgoglioso, anche perché è la prima legge a livello nazionale che è stata fatta da una regione, che è la legge contro le plastiche in mare sulle spiagge. Nei mesi scorsi, prima del lockdown, del Covid, il tema della plastica era sicuramente un tema che era all'ordine del giorno, perché i nostri mari sono completamente inquinati, pieni di plastica. Voi dovete pensare che quello che vedete in superficie rappresenta una minima parte della quantità di plastica che in realtà c'è nel nostro mare. Ne sanno qualcosa i nostri pescatori, che purtroppo ogni volta che vanno a pesca si ritrovano a raccogliere tantissima quantità di plastica e questa plastica per loro era difficile riuscire a smaltirla. Questa legge è molto importante perché invece prevede una possibilità che è già stato avviato un protocollo di intesa tra l'autorità portuale, Capitineria, Comune, Regione Marche e Marche Multiservizi per fare in modo di poter raccogliere questa plastica che i pescatori raccogliono durante la loro attività. Questa è una cosa molto importante, sarà un progetto sperimentale a livello nazionale. Io mi auguro che questa sperimentazione possa essere allargata anche in altri territori del nostro territorio regionale e nazionale, che però che vedono le marche, come dire, essere tra le prime ragioni in Italia ad aver avviato un progetto di questo tipo contro l'inquinamento in mare delle plastiche. Visto che ci avviciniamo all'inizio delle lezioni scolastiche, ecco, quello che è stato fatto per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quindi l'edilizia scolastica, è quello che si vorrà fare? Beh, questi sono stati cinque anni veramente molto importanti. Sono decine e decine di milioni di euro che sono stati investiti a favore della messa in sicurezza per l'edilizia scolastica, sia la messa in sicurezza sia l'efficientamento energetico. Le risorse che lo Stato, il Governo ha messo a disposizione, ovviamente che sono state gestite direttamente dalla Regione, sono veramente tantissime e questo noi penso che dobbiamo continuare in questa direzione, cioè fare in modo che le scuole dove i nostri ragazzi vanno siano sempre più sicure, siano sempre, come dire, all'avanguardia rispetto ai tempi, quindi siano efficienti dal punto di vista energetico, ma siano soprattutto sicure. Sono tantissimi, appunto, come dicevo, gli investimenti fatti nel territorio, in tutti e molti comuni della provincia, devo dire che devo fare in complimenti anche ai comuni che però hanno presentato i progetti, perché quello che dico sempre è che per avere i soldi, per avere le risorse, occorre presentare i progetti. Le amministrazioni sono state molto sensibili, hanno presentato questi progetti alla Regione, ce ne sono tantissimi che sono in attesa di poter essere finanziati, quindi c'è stata la capacità dal punto di vista del territorio di presentare i progetti, ora incominciamo, stiamo finanziando sempre di più questo tipo di investimenti e continueremo sicuramente in questa direzione. Rispetto all'inizio delle elezioni, voglio dirlo, scusatemi, devo dire che io mi sarei aspettato che la data delle elezioni fosse stata anticipata, perché chiudere le scuole una settimana dopo, qualche giorno dopo che le scuole si iniziano, non è stata una gran scelta, quindi personalmente ritengo che sarebbe stato più opportuno a votare nel mese di luglio o al limite se si voleva votare nel mese di settembre, ma votare almeno una settimana prima per evitare il disagio all'interno delle scuole. Vedremo se si troveranno anche degli spazi alternativi, però comunque... Sì, sarà molto difficile organizzarsi. Allora, periodo Covid, tante le imprese nel nostro territorio, tante le imprese che adesso si stanno rialzando, quali sono i vostri... su quali tematiche lavorerete, vorrete lavorare per riprendere, per far sì che le aziende marchigiane riescano insomma a vivere? Il ruolo della regione è veramente molto importante, sia per sostenere le imprese, per sostenere il lavoro, per sostenere la formazione. Noi gestiamo tantissime risorse, in questi giorni si sta parlando di risorse che dovranno arrivare dalla comunità europea, parliamo di decine di miliardi di euro che come regione marchia dovremmo andare a gestire, ma al di là di queste risorse noi comunque abbiamo una nuova programmazione europea 2021-2027 di oltre un miliardo di euro, dove una buona parte di queste risorse verranno destinate, come viene fatto normalmente, sia per il mondo dell'agricoltura e da questo punto di vista dovremmo essere bravi per snellire un po' di burocrazia che sta creando veramente sempre grandi difficoltà all'impresa agricola per poter accedere questi finanziamenti. Dall'altra parte le imprese, le imprese legate all'industria, all'artigianato, al commercio legate ai servizi, legati al turismo, legati al mondo della cultura e come regione Marche annualmente facciamo veramente tantissimi bandi rivolti alla capacità dell'impresa di poter fare investimenti per migliorare la qualità del prodotto, per migliorare le attrezzature che hanno all'interno per migliorare i capannoni, per essere sempre più innovativi e devo dire che negli ultimi cinque anni, soprattutto nella provincia di Pesururbino c'è stato veramente un notevole aumento delle imprese, della presa di consapevolezza delle possibilità che come regione Marche mettiamo in campo devo dire anche il grande lavoro che abbiamo fatto insieme alle varie associazioni Io dico che se lavoriamo insieme, cioè imprese, associazioni e soggetto pubblico anche coinvolgendo anche il sindacato, può essere sicuramente la chiave di svolta per fare in modo che noi riusciamo veramente a informare e a comunicare tutte le opportunità che possiamo mettere in campo e quindi mettere in condizioni le imprese di poter partecipare L'ultima campagna pubblicitaria della regione Marche ha visto protagonista il ciclismo è comunque un nome del nostro territorio, questo per far vedere quanto le Marche siano anche sport Noi a punto di vista nazionale abbiamo puntato molto sulla promozione del nostro territorio Ricordo il riconoscimento che abbiamo avuto dalla Lonely Planet che è un riconoscimento veramente importantissimo grazie anche ai grandi eventi legati a Raffaello, legati a Rossini ma soprattutto per la grande campagna di promozione che abbiamo fatto a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale Lo sport fa parte di questo tassello nel senso che noi abbiamo sempre detenuto che era importante sostenere lo sport innanzitutto perché in gran parte si parla di sport amatoriale cioè di persone che lo fanno perché amano lo sport, per la propria salute, per stare meglio ma soprattutto perché è come un momento in cui si sta insieme e quindi abbiamo previsto per la prima volta dopo 20 anni innanzitutto finanziamenti per il sostegno agli impianti sportivi sia per gli enti pubblici ma anche per le realtà private dall'altra parte abbiamo sostenuto tantissimo tutti quelli che sono i grandi eventi legati allo sport eventi legati alle manifestazioni di carattere nazionale, di carattere regionale ma anche per quanto riguarda lo sport minore ricordo che con la piattaforma 210 dove abbiamo come dire distribuito al mondo dell'impresa, al mondo del lavoro, delle professioni, del turismo, della cultura di chi quindi si occupa dei servizi, una parte di queste risorse le abbiamo lasciate dedicate anche alle realtà associative associazioni legate alla cultura, legate al sociale ma anche alle associazioni legate allo sport io in questi giorni sto girando per fare campagna elettorale devo dire che questa cosa è stata molto apprezzata perché il mondo delle associazioni dopo il lockdown veramente ha rischiato grosso e rischia ancora grosso perché ovviamente gli sponsor sono diminuiti non si hanno avuto la capacità di organizzare tantissimi eventi che gli servono per raccogliere anche i finanziamenti e quindi un aiuto pubblico che c'è stato da parte della regione in molti casi è stato veramente molto importante perché ha dato un po' di respiro alle tante associazioni che si occupano spesso di stare vicine ai più deboli o comunque di promuovere il nostro territorio Andiamo adesso a parlare delle strade in questi cinque anni è stato fatto un grosso lavoro per quanto riguarda appunto le nostre strade che sono importanti e lei se ne è occupato in prima persona? Beh devo dire che il tema delle strade me ne sono occupato in maniera veramente tantissimo l'obiettivo era quello di riuscire a mettere in sicurezza le tantissime strade che abbiamo nel nostro territorio che a causa come dire delle risorse ridotte che sono state date dalle province non riuscivano più a fare la manutenzione noi siamo stati tra le prime regioni d'Italia a riuscire a trasferire le strade provinciali ex ANAS a farle tornare allo Stato parliamo nella provincia di Pesurubino di circa 200 km di strade tra le strade principali ricordo la strada Fogliense la strada che collega Morciola con Lunano ricordo la Urbinate cioè tra Morciola e Urbino la Cesanense cioè tra Marotta, Pergola e Cagli la Metaurense tra Fermignano e Urbino la Pedemontana, Cagli e Sant'Angelo in Vado la Pecchiese e in questi anni veramente sono stati investiti tantissimi milioni di euro grazie a questo accordo che abbiamo raggiunto con ANAS e allora un appello al pubblico perché votare Andrea Biancani e come votare? beh io devo dire votare Andrea Biancani perché innanzitutto votare una persona che in questi anni ha dimostrato di sapere amministrare una persona di esperienza una persona che ha dato tanto e che vuole continuare a dare tanto per votare bisogna scrivergli il cognome questo è molto importante a fianco della scheda occorre individuare il simbolo del Partito Democratico e a fianco del simbolo del Partito Democratico scrivergli il cognome del candidato che si vuole sostenere in questo caso ovviamente invito a tutti a scrivere Biancani a fianco al simbolo del PD allora in bocca al lupo e grazie grazie a voi e ripeto rinnovo l'invito a tutti i cittadini votate Biancani perché Biancani sicuramente fa per voi grazie a tutti